Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a un nuovo video di investire in borsa a caccia di dividendi. Oggi parliamo di un tema che penso possa essere graditissimo e di grande interesse a tutti voi, ovvero la possibilità di fare piani d'accumulo in ETF gratuitamente con Directa. Per chi non lo sapesse, Directa è un broker totalmente italiano, quindi nessuno sbatti nel fare dichiarazioni di redditi, nel denunciare imposte di bollo, plusvalenze, dividendi, fa tutto Directa in quanto si può agire direttamente in regime amministrato. Premetto io, non ho nessun collegamento economico con Directa, però mostro insomma tutte le funzionalità che ha questo broker, anche perché personalmente lo utilizzo e mi trovo abbastanza bene. Lo ritengo molto semplice, con commissioni veramente competitive, poi chiaramente questa qui è la mia opinione, però penso che molti di voi lo stiano già utilizzando. Ma saltiamo questo discorso su Directa e veniamo ai piani d'accumulo in ETF. Piani d'accumulo che, come dice il sito stesso di Directa, ha l'obiettivo di sviluppare servizi rivolti all'investitore autonomo e consapevole attraverso un piano di investimento su una selezione di ETF emessi da Lixor ed è a fee zero, ovvero a commissioni zero. Quindi c'è la possibilità di automatizzare i propri investimenti tramite questo piano di accumulo. Piano d'accumulo che, lo ricordo, è alla base della strategia di Stefano, il protagonista di Pensionato a 50 anni, il mio romanzo finanziario, che se volete trovate su Amazon in formato cartaceo e in formato digitale ed è anche alla base, alla fin fine, del mio piano di investimento, ovvero comprare qualcosa tutti i mesi e poi magari dare una spinta ulteriore quando i mercati scendono. Poi, chiaramente è impossibile comprare sui minimi, così come è impossibile vendere sui massimi, ma insomma, una strategia di questo tipo, almeno per quanto mi riguarda, mi sta dando delle soddisfazioni. Poi, se avete strategie migliori, ovviamente, potete condividerle nei commenti ai miei video. Partiamo quindi con una piccola premessa. Piani d'accumulo. Che cosa sono? Operativamente i piani d'accumulo permettono al risparmiatore di accedere all'investimento attraverso versamenti periodici di capitale. Quindi, nella pratica, l'investitore apporta all'investimento somme costanti a scadenze regolari e per un periodo di durata predeterminata. Facciamo un esempio pratico. Io, ogni 15 del mese, investo 200 euro per i prossimi 20 anni. E questo, diciamo, è una modalità molto, molto semplice. Così facendo, il capitale investito dal risparmiatore, in termini complessivi, cresce in modo graduale nel tempo. I vantaggi. Quali sono i vantaggi? Grazie alla sua flessibilità e alla possibilità di predeterminare la cifra da versare, un piano d'accumulo è spesso preferito dai risparmiatori che non hanno grosse cifre da investire. Chiaramente, sì, io sono giovane. Non è il mio caso, però, un ragazzo giovane, magari che ha appena iniziato a lavorare e appena iniziato a guadagnare, ovviamente non avrà risparmi da parte, però ha uno stipendio che potrà, diciamo, utilizzare per iniziare un piano d'accumulo. Magari abita in casa con i genitori, un guadagno di 1000 euro, uno stipendio di 1000 euro può essere tranquillamente, al suo 50%, indirizzato verso un piano d'accumulo. 500 euro al mese direi che è un'ottima base di partenza per aprire un piano d'accumulo per un ragazzo giovane che abita ancora in casa con i genitori. I PAC, tra i loro punti di forza, hanno il vantaggio, poi, di eliminare la componente stagionale dell'investimento sui mercati e di ridurre decisamente il rischio legato a una tempistica errata, come previsto dal principio del dollar cost averaging. Uno dei maggiori rischi dell'investire in unica soluzione è quello di scegliere un timing sbagliato. Ipotesi, io ho 10.000 euro da investire, li investo tutti oggi, domani crolla il mercato, ho sbagliato il timing. Poi, insomma, c'è tempo, chiaramente, per recuperare, però, come in questo periodo, possiamo notare, i mercati sono al massimo, se io avesse una grossa somma da investire in questo momento, sinceramente, non la investirei tutta subito, ma entrerei con un piano di accumulo. Almeno questa è la mia idea. Magari ho 10.000 euro, mi faccio un bel PAC di 800 euro al mese per un anno e prima o poi il minimo lo becco di sicuro. L'investimento con un PAC è, invece, quindi diluito su durate piuttosto lunghe e quindi gli acquisti frazionati sono distribuiti su quasi tutte le condizioni di mercato, appunto. Un altro vantaggio, possiamo dire, del PAC è quello di costringere, fa virgolette, l'investitore all'accantonamento di una somma in modo costante. Ad esempio, una persona che guadagna 1.500 euro al mese, ha tante spese, l'affitto, le bollette, eccetera, però magari anche qualche sfizio un po' di troppo, dice, mi faccio un PAC di 100-200 euro al mese, mi costringo a investire, proprio appena arriva lo stipendio, quei 100-200 euro al mese vanno direttamente accantonati nel piano di accumulo, mi costringo quindi a risparmiare, a non spenderli, però ne li troverò fra un po' di tempo. Poi, investire in un piano di accumulo permette di non cadere nella cosiddetta trappola delle emotività. Molto spesso, e numerosi studi lo confermano, i sottoscrittori di uno strumento finanziario decidono di investire o disinvestire sulla base dell'ultima tendenza, con un'accentuazione del fenomeno in presenza di alta volatilità. La famosa trappa delle emotività, che tante volte ne ho parlato, non facciamoci prendere dalle emozioni, dobbiamo sempre avere un piano ben stabilito. Ma passiamo un pochino al concreto. Come poter attivare un piano di accumulo con Directa? Allora, facciamo vedere questa schermata. In alto a sinistra, per chi avesse Directa, c'è il menu di Lite. La seconda voce è quella Pack in ETF. È molto molto semplice, ve lo spiego in 4 o 5 slide. Quindi andiamo a cliccare sulla voce Pack in ETF. Prima schermata ci mostra come saranno i passaggi per creare il pack, ovvero la scelta dell'ETF, gli importi, la frequenza e poi la validazione. Ecco qui la prima schermata, quindi. Scelta dell'ETF. C'è la possibilità di scegliere l'ETF sulla base di vari criteri. Tutti gli ETF e l'Xor vengono elencati. Poi c'è la possibilità di scegliere fra quelli obbligazionari, tra quelli ISG, ovvero quelli attenti alle tematiche ambiente, sociale e governance, quelli magari che investono sulle commodities, quelli azionari. Il mio consiglio personale è quello di andare magari sul sito di Just ETF o su siti simili, magari non so, Morningstar, e già avere le idee chiare e quindi già scegliere tramite quel sito lì che ci permette di fare analisi molto attente e quindi sapere già su che ETF andare a investire. C'è la possibilità di aggiungere più di un ETF al nostro piano d'accumulo. Ad esempio qui in giallo, lo vediamo in fondo, io ho provato a mettere un ETF sul Word e sulle obbligazioni ISG. Però chiaramente è proprio per fare un esempio. Poi nell'esempio seguente vedremo anche cose differenti. Chiaramente per chi inizia con importi piccoli, il consiglio sarebbe quello di investire in ETF ad accumulazione, anche perché se io investo 100€ al mese su un ETF a distribuzione, alla fin fine di dividendi incasso veramente poco. Poi magari raggiunta una somma importante, si potrebbe anche valutare di switchare su prodotti a distribuzione. Poi insomma, la scelta tra distribuzione e accumulazione è molto molto soggettiva. Io personalmente prediligo quelli a distribuzione, ma anche perché ormai ho un pochino terminato la fase iniziale di accumulazione e sto già iniziando a produrre un reddito che poi dovrà essere più alto nei prossimi anni, almeno quella lì, quello è il mio obiettivo. Quindi, scelti gli ETF o il singolo ETF, cosa andiamo a fare? Andiamo a decidere gli importi e le frequenze. In questo esempio ho messo un MCI, All Country World, 200€ al mese, il primo di ogni mese e magari due ETF obbligazionari, uno sui Green Bond e uno sugli High Yield, 100€ al mese ciascuno, il 15€ di ogni mese. Quindi si può scegliere l'importo e si può scegliere la cadenza, ovvero la data in cui viene fatto l'investimento automatico. Può essere il primo del mese oppure può essere il 15€ di ogni mese. Oppure si possono anche, diciamo, mixare le due soluzioni. Dopodiché si schiaccia con valida PAC. Piccola cosa che c'è da dire. Nell'esempio che ho fatto in questa schermata, in realtà mi piace far vedere la scritta in rosso. Nel caso io andassi a scegliere un ETF che in realtà ha una quotazione sulla singola quota superiore all'importo che io voglio versare, il PAC non parte. Ad esempio, il Lixor MCI All Country World ha una quotazione per singola quota di 340€ circa. Quindi la procedura ci fa vedere che c'è un messaggio di errore. Nel senso che io non posso impostare un piano di accumulo di 200€ su un ETF la cui quota è di 340€ circa. Pertanto o vado a scegliere un ETF con delle quotazioni più basse, ad esempio quello sui Green Bond ha una quotazione di 53,9€, in quel caso posso fare un PAC di 100€ ma mi prenderà soltanto una quota sola. Potrei ad esempio impostare però dei valori più alti. Ad esempio quello sul Green Bond potrei mettere magari 150€ di investimento mensile per acquistare due quote ogni mese. Se invece volessi investire sull'MCI All Country World dovrei inserire almeno 400€ per stare tranquilli fino a quando questo ETF non raggiunga la quotazione di almeno 400€ perché poi il PAC si potrebbe interrompere. Spero che questo passaggio sia molto chiaro altrimenti scrivetemelo nei commenti. Allora proseguendo c'è poi la possibilità di fare con valida PAC quando abbiamo impostato il nostro PAC. Io non l'ho fatto, attualmente non ho attivato un PAC. C'è però anche la possibilità di vedere come vengono spalmati gli investimenti a seconda degli ETF selezionati, quindi su azionari o sì, ISG, tematici e obbligazionari. Quindi c'è anche questa schermata. Dove possiamo raggiungere questa schermata? Dal menu di spalla sinistra possiamo vedere che c'è riepilogo PAC, categoria, quindi con categoria andiamo a vedere proprio come viene distribuita la somma investita nei singoli ETF e rendimento possiamo poi vedere anche come sta andando il nostro investimento in PAC su ETF. Allora, chiaramente la base di partenza è l'ETF o gli ETF che vogliamo andare a scegliere. Abbiamo detto che sono quelli emessi dall'Xor che beneficiano di questo piano d'accumulo a fii zero, quindi a commissioni zero. Sono 164 gli ETF, l'Xor quotati in Italia e poi su Borsa Italiana, poi è prevista anche la fusione con Amundi, quindi potrebbero raggiungersi altri 110 ETF, però lì chiaramente è un punto di domanda. Su questi 164 ETF di l'Xor pensate che ben 37 hanno un capitale gestito di oltre 500 milioni di euro, quindi sono di grandi dimensioni, di medie e grandi dimensioni sono 91 ETF, quindi insomma possiamo dire che la scelta è molto molto ampia. Chiaramente la scelta su un PAC, su importi piccoli, soprattutto secondo me dovrebbe ricadere su un comparto azionario. Allora, io mi spingo in questa mia opinione, poi chiaramente ognuno può avere le proprie opinioni differenti, però andare a fare un piano d'accumulo su un obbligazionario euro in questo momento secondo me non ha grande senso perché avrà rendimenti abbastanza piatti, anzi con i PAC si può sfruttare la volatilità dell'azionario anche per trarre beneficio nel lungo termine. Poi questa qui è la regola base di un PAC, ognuno può fare le valutazioni che crede. Direi che abbiamo andato a tante cose, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemelo sapere con un like, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e ovviamente ditemi la vostra con commenti, sia se non avete capito qualcosa oppure se volete dire la vostra opinione diversa dalla mia. Per oggi abbiamo finito, un caro saluto a tutti da Lorenzo, a presto e ciao!